Una bellissima iniziativa che sta riscoltendo un grandissimo successo, quello dell'ante della Guardia di Finanza. Sicuramente sì, io sono venuto perché mi aspettavo un successo e vedo che veramente viene confermato perché l'iniziativa è veramente lodevole e importante. Intanto un ringraziamento alla Guardia di Finanza perché mette a disposizione la merce sequestrata con l'idea di darla e devolverla per associazioni di beneficenza. È un gesto bellissimo e credo che sia veramente di grande valore. E poi un ringraziamento veramente speciale a tutti i volontari dell'ANT perché giornalmente fanno grandissime cose e questa per loro è un'occasione per avere dei fondi che sono fondamentali e anche per far conoscere tutto quello che fanno. E poi un saluto particolare a Enzo Salvi che tra un poco arriverà perché anche lui il fatto che abbia accettato di venire per lanciare questa iniziativa è un gran bel gesto e che dimostra che molto spesso dietro ai personaggi sono anche persone di grande valore e spessore.